cheers a tutti oggi andremo ad assaggiare marziana di birra nuova una marzen vai andrea dici qualcosa mentre inizi a stappare le marzen sono lager tedesche ambrate dove l'inizio l'imbocco è leggermente dolciastro per poi avere un finale secco e ci dovremmo aspettare note di panificazione pane tostato o abbrustolito va bene bellissimo io inizio a parlare della della birra mentre tu la versi alla regia ea te e direi che questa birra ha qualcosa di strano all'interno cioè a del residuo proprio che fa in giro da te si vede regia che c'è questo residuo che va in giro ma doveva nel mio bicchiere basta che non scappa nel mio bicchiere basta che non scappa andrea nella tua no quindi solo nella mia bene vedi qua c'è un po di allora la schiuma è a bolle fini bianca vende qua guarda le mie bolle come sono e vabbè le tue miste le tue miste le bifini va bene e bianca la birra è ambrata ok andiamo al naso wow che odore buono di trebbie trebbie pane pane insomma c'è un panificato importante mamma mia che buon odore un panificato importante prodotti da forno e si cotti ben cotti tra il cotto e il ben cotto che buon odore ragazzi che buon odore ok wow il sapore è identico all'olfatto richiama molto i sensori olfattivi non è super intensa no non è molto intensa e non è molto persistente in bocca però è pulita è super pulita lascia tipo la bocca pulita no? c'è anche una leggera astringenza sul finale c'è la bocca ti si asciuga si astringe leggermente e e resta bella pulita che c'è? che c'è? buona buona mi è piaciuta tantissimo e non è quanta di gradazione alcolica? 5 5 5 5 di gradazione alcolica insomma è una birra veramente per tutti super beberina super buona super facile è facile da bere difficile da fare sicuramente sicuramente non ha nessun tipo di difetto la bottiglia la bottiglia intesa come il prodotto all'interno della bottiglia e vende non la bottiglia in sé devo dire che veramente questa è una di quelle birre che per approcciarsi ti dici oh una birra easy senza non è un succhiamento minotropicale non i luppoli non la fanno da padrona insomma è veramente una birra secondo me per iniziare di quelle serie e basta il birrificio top ragazzi veramente birra nuova fa delle birre spettacolari è una bassa fermentazione è una bassa fermentazione una lager buonissima bassa fermentazione veramente stra pulita stra buona sarà consigliata a tutti dobbiamo dire qualche altra cosa beh ragazzi lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividetelo iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ciao